Bene ragazzi sono Daryl e sono tornato con un nuovo episodio di A Voi La Scelta e oggi siamo con la classe forse peggiore di tutta la storia del coso, di questa serie perchè sto con, vaffanculo, oddio, sto con una migraietta con Mirino Akog la CBJ con Mirino Akog e silenziatore ed è veramente una merda, cioè quando spari balla non si esce non si riesce proprio a mirare e infatti prima ho fatto una partita, ho finito 3-7, qualcosa del genere proprio è veramente difficile, fa una kill quest'arma quindi speriamo che ce la mandano buona anche perchè sto pure in un lobby con gente abbastanza forte oddio quanti so, o aiuto, aiuto fammene andare perchè questo qua se no mi fa il culo vedete quanto balla, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile cioè balla che non si sa che è una bellezza, non riesco a fare niente Cristo cioè, vedete voi è ingiocabile, è veramente ingiocabile quindi speriamo di finire veramente, ma anche in pari, o anche meno 2 rispetto ai morti guarda che non riesco a mirare, mannaggia è un casino quindi stavolta vi siete impegnati veramente tanto a darci, a darmi una classe di merda cioè, no no, non si può, non si può mi pare che ce l'ha consigliata da Alex Amici e colgo l'occasione per dirvi che se volete consigliarmi la classe per i prossimi video dovete mettere mi piace alla pagina Facebook perchè io farò lì il post dove chiederò che classe usare aiuto, aiuto, aiuto e quindi me la potrete consigliare là si vabbè col cazzo che t'ammazzo da qua è impossibile, cioè olè mi sa che è meglio se uso la Magnum oddio fermi tutti si supera no rega ho fatto anche un colpo alla testa penso che sia veramente il top no no dai no, non posso morire con sto coso su, ma che è tanto c'è il coniglio che mi fa prendere i colpi no, perchè me l'hai tolto? una volta e poto fare una kill facile c'è il coniglio qui accanto che cammina e mi fa prendere i colpi sembra che ci sono i ladri dentro casa va bene oh mira di merda ma ce la fa lo prende 5-4 attenzione è record no vabbè dai come se fa aiuto cioè tocca fare le cose tattiche qua per non morire volè oh mamma mia sti ordini artigianali quanto mi stanno sul cazzo comunque dovrebbe arrivare una puntata speciale con un ospite speciale in seguito ma dato che non è ancora sicuro non vi spoilerò nulla però sappiate che potrebbe arrivare e no dai se facevo sta kill era perfetto andavo 8-4 cioè roba di di troppo cioè dunque dai nonostante tutto ce la stiamo battendo perché sono abbastanza concentrato sono che non voglio fare una partita di merda ma vi assicuro dovete provarla sta classe è veramente difficile usarla ci avventuriamo qui io qua flash sempre che c'è sta un uomo invece sui sacchi dell'immondizia benissimo anche sto coso cioè oggi tutto è tutto mi capita e vabbè cristo non basta che ho sta classe grazie del cavolo oddio no ancora eh mo mi hai rotto le palle mi hai rotto le palle ecco l'elicottero vai così vai che si muore eccolo mamma mia ce l'ho dietro lo sento è un po' compromettente ce l'ho dietro lo sento è un po' compromettente però vabbè attenzione sta qua e basta la pianta il culo vabbè vabbè devo sparare affiga non c'è niente da fare se no non ce la fai sta manca a perdere io sono il primo della squadra incredibile pensa quanto fanno schifo l'arty oh 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 fermi mamma mia zap away the best EU player in the world mi prendono nei sublime dopo questa mamma mia oddio no certo sono stato a guardare tre ore non è possibile che poi ho intuito che lì c'era uno prima di risalire scale però poi dopo non l'ho visto quando sono risalito vabbè lì c'è qualcuno vabbè imbaccicazzi miei oddio sta là sta là sta là no 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 questa mi rifiuto questa no questa no tacitua devi tu dici camara alzata oh un pezzo di merda ci ha pensato il cane la moglie fa male oddio quello sta là non so un culamo ma è morto perché c'è il cane satcom nemico localizzato vabbè certo che io pretendo di sta lì in mezzo alla mappa e non morire cioè sto stupido pieno di mitragliette benissimo aiuto mamma mia pro eh oh oh cazzo ma ma che è oh manco manco niente non mi viene niente cioè oh mo te giuro che se non l'ammazza questo vabbè e te pare è sempre così cioè io sparo a quell'altro esce l'altro è sempre così va fan culo va 12-14 che schifo va bene ragazzi anche questa è finita speriamo che il prossimo episodio sia quello speciale con l'ospedio speciale che vi ho promesso e sempre lasciate un like e lasciate un like sulla pagina facebook per consigliarmi la classe per la prossima puntata bella